Quindi adesso stai con un ragioniere o... Owen. Un ventriloco? Smettila. Ami un manichino. Non siamo qui per questo. So perché siamo qui. Un'operazione di soccorso. Salvare i dinosauri dall'isola che sta per esplodere. Cosa può andare storto? Blu è viva. L'hai allevata tu. Questi animali meritano la stessa protezione data alle altre specie. O dovremmo lasciarli morire. Erano qui prima di noi. E se non stiamo attenti... Ci saranno anche dopo. Tu mi conosci. Scambatus! Scambatus! La vita non si imprigiona. La vita si libera. La vita trova una strada. La vita si libera. La vita si libera.